La Corinne dov'è? Vieni! Un vaso, via! Su, un vaso, un vaso! Dopo i quadri si riparte con la festa, quindi è stato tutti qui, eh! Dopo 9 anni finalmente si festeggia! Si, un parto lungo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta! Con noi anche Francesca, che è la figlia di Raffaello Giunca, che è stato il nostro maestro e quello che ci ha avuto nei primi L'amore del vento e il mare La pace sempre vince Lui alla fine Ci segue da diversi anni Ho detto ci voleva la chiesa il Silvio Santo per vincere dopo 9 anni 9 anni per i figli 9 mesi per avere un figlio 9 anni per avere un figlio 9 anni per avere un figlio Vi aspettavate questa vittoria Forse quest'estate quando abbiamo trovato il soggetto abbiamo avuto un rega Santo subito poi siamo andati avanti a sviluppare Grazie a tutti Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!